Quella del Consiglio di Stato, quella storia che è uscita sul Consiglio di Stato, che avrebbe una bufala colossale, perché il Consiglio di Stato ha semplicemente detto manca il parere alla conferenza Stato-Regioni, il parere alla conferenza Stato-Regioni è arrivato e quindi ragazzi veramente non creiamo allarmismo inutile che preoccupa quelle famiglie che hanno con grande intelligenza e con grande entusiasmo scelto questo percorso. Lo preoccupa inutilmente, fra l'altro si tratta di un regolamento dell'ultimo triennio. Ma proprio quella era una classica fake news, cavalcata in modo indegno da una certa opposizione.